Dopo la microfrattura di Mike Henry, il problema al piede di Daniele Cavaliero, per entrambi possibile ancora un mese ai box, ecco che arriva pure la distorsione al ginocchio di Ike Udano. I tre infortuni in casa Allianz, partita col Turbo in queste prime due gare di campionato, hanno consigliato la società ad un acquisto a gettone sul mercato. La scelta della palacanestro Trieste è caduta su una vecchia conoscenza, il play guardia reggiano Federico Mussini, già a Trieste in A2 nella stagione 2017-2018. Nell'ultimo campionato ha militato a Pesaro, viaggiando a 8,1 punti e 1,4 assist di media, risultando spesso importante con tiro e regia lucida. Non ha mai interrotto l'attività in questi mesi, allenandosi a Trieste con la prima squadra. Entra dunque nel gruppo bianco-rosso con la formula del contratto a gettone. Sarà a disposizione già a partire dalla partita di domenica prossima contro l'Olimpia Milano.